A me la cocaina mi trasformava, io nasco come un violento, io ero un violento fino a qualche anno fa perché appunto avevo questo gruppo e noi per fare i scontri perché dalla partita non ci fregavamo cazzo proprio, infatti c'è pure un coro, a noi della partita non ce ne frega un cazzo.